Permettetemi di dire grazie a tutti gli amici di Torino che hanno reso possibile questa iniziativa all'ultimo tuffo perché l'abbiamo un po' cambiata di impostazione. Grazie a chi ha partecipato, non soltanto di Televiva, magari qualche curioso, dalle persone alle primissime esperienze. Mi ha scritto uno che dice la prima volta che vengo ad un'iniziativa politica. Non pensate che siano tutte così. Non pensate che siano tutte proposte. A chi invece ha qualche esperienza in più, saluto in particolar modo il professor Marcello Gallo, ringrazio di essere qua con noi, una colonna della vita non soltanto torinese, del mondo giuridico e non soltanto del mondo giuridico di questa città. E ringrazio ovviamente tutte le varie realtà che hanno dato una mano nell'organizzare. Naturalmente mi guarda a porta se mi dice se non citi i moderati, guarda lì che Mimmo mi guarda. Fermo è lì, c'è Mimmo ed è in gran forma esigual. Però noi adesso abbiamo il compito nel chiudere di raccontare che cosa vogliamo fare. Perché questa cosa qua è un censimento che non tutti hanno. Con questa visione non è mai stato fatto, è la prima volta che viene fatto con questa visione di insieme. Ma non basta. Perché una volta che tu hai detto che questi soldi ci sono, come immaginiamo di spendermi? E qui vengo alla doppia strategia che abbiamo. Da un lato c'è un'esigenza che è quella di riunirsi, discutere e ragionare insieme di come semplificare le procedure, perché è evidente che le procedure standard ancora non funzionano come vorremmo. È un dato di fatto questo. Ne parlavamo poc'anzi, ci sono tanti argomenti come fare sulla progettazione, come fare sugli interventi, come fare sui ricorsi. È un tema che esiste e che è un tema complicato. Dall'altro però c'è una realtà immediata che va sistemata. E noi vogliamo che il modello sia quello che ha funzionato quattro anni fa all'Expo di Milano. Cosa è successo quattro anni fa? Più correttamente cinque anni fa, perché era il 2014. Io arrivo a Palazzo Chigi e mi dicono Oh, non avrai spazio, non c'è modo per salvare l'Expo. Addirittura ricordo sempre una persona che mi dice Chiama Erdogan e digli che l'Expo lo facciamo a Smirne. Non perché ci fosse una particolare liaison con Erdogan, ma perché Smirne era la città che era arrivata seconda nella competizione che Milano aveva fatto e su cui, devo dire, onore al merito, l'ho riconosciuto più volte, lo rifaccio qui. Un sindaco come Letizia Moratti aveva oggettivamente fatto la differenza, anche personalmente, con il suo impegno personale. Io credo che sia giusto sempre riconoscere il merito delle persone, in questo caso il merito di Letizia Moratti. Bene, l'Expo era fermo, stava per essere chiuso, buttato via. Immaginate che cosa sarebbe accaduto in Italia e a Milano dove noi avessimo perduto l'occasione dell'Expo. Cosa abbiamo scelto di fare? Abbiamo scelto di fare due cose. Abbiamo messo l'ambulanza nella corsia d'emergenza. Un grandissimo investimento su un commissariamento, nel caso di specie il commissario era il direttore dell'Expo, che poi è diventato il sindaco, Beppe Sala, e dall'altro un controllo fortissimo affidato al magistrato Raffaele Cantone, presidente dell'autorità nazionale anticorruzione. Con questo meccanismo abbiamo sbloccato le opere pubbliche e anziché lasciare l'ambulanza in coda nel traffico l'abbiamo messa nella corsia d'emergenza. È accaduta la stessa cosa a Pompei. Lo ricordavo prima, quando parlava a Anna Maria. Il generale Gianni Nisteri ha preso la macchina, l'ha messa, ha preso l'ambulanza e l'ha portata in corsia d'emergenza per poter spendere tutti i soldi dell'Unione Europea che altrimenti avremmo buttato via dalla finestra. Ed è accaduto, una volta di più, in queste ore, sta accadendo, in queste ore, a Genova, per scelta del governo precedente, Cinque Stelle e Lega, non per scelta nostra. Anzi, con anche molte discussioni, ne abbiamo parlato in particolar modo per tutto il mondo che è collegato alla vita quotidiana di Genova. Bene, il ponte, che non possiamo più chiamare Ponte Morandi, chiameremo Ponte Renzo Piano, immagino, il Ponte Renzo Piano sta venendo su e sarà su nel giro di qualche mese. Sta procedendo con un'accelerazione dei lavori. Allora, noi diciamo, ci sono oltre 120 miliardi pronti ad essere spesi. L'Italia è, ve lo ha raccontato il professor Fortis molto chiaramente, in una curva discendente drammatica. Il PIL è arrivato a 1,7 e il debito è iniziato a scendere. Oggi il PIL è crollato e il debito è tornato a scendere. Il PIL 0,1, debito più 1,4, quanto era? Se vado a memoria. O interveniamo subito o non andremo da nessuna parte. Cosa vogliamo fare? Vogliamo in questi mesi lavorare, per due mesi lavorare molto seriamente su tutto il progetto che abbiamo presentato. chiedo ai 25.000 iscritti di Italia Viva di darci una mano, ma anche a chi iscritto non è, e andare casa per casa, comune per comune, a verificare questo progetto, a studiarlo, ad approfondirlo. E poi noi scriveremo, entro due mesi da oggi, oggi è il 15 novembre, il 15 gennaio, un articolato testo di legge che chiederemo al Presidente del Consiglio di trasformare in decreto legge. Parleremo con le università, con i professori di architettura, con gli avvocati amministrativisti, con tutto il mondo della società civile, con l'Ance, con l'Anci, con tutte le realtà più impegnate nel settore dello sblocco dei cantieri. E poi, da forza politica che sta in maggioranza, andremo dal Presidente del Consiglio a Palazzo Chigi a dire, questo è il nostro contributo per permettere all'Italia di rimettersi in moto.